Musica Incidente questa mattina, sabato 23 dicembre, poco prima delle 11.30 in Corso Piemonte a San Maurizio Canavese, con volte in uno scontro frontale due auto, una Fiat 600 condotta da un uomo e una Volkswagen Tiguan con a bordo una donna. L'impatto è stato alquanto violento, la Fiat 600 è terminata la soccorsa sul prato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino e San Maurizio Canavese, due ambulanze d'arco ciaverde di Ciriè, l'elicottero dei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di San Francesco al Campo. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere e subito soccorsi dai sanitari. L'uomo è stato ritrasportato all'ospedale CTO, mentre la donna è stata portata in ambulanza all'ospedale di Ciriè. L'uomo è stata portata in ambulanza all'ospedale di Ciriè. L'uomo è stata portata in ambulanza all'ospedale di Ciriè.